Giovanna Cristina Vivinetto, Daniele Pieroni ed Elio Pecora sono i vincitori del premio internazionale di letteratura dedicato all'audome a Bonanni, sezione e poesia edita premiati nel corso della cerimonia di sabato 24 novembre all'interno dell'auditorium del Parco del Castello. Ospite della 17esima edizione del premio fondato nel 2002, il poeta cinese Yang Lian, considerato uno dei poeti viventi più famosi al mondo e che vive in esilio a Londra da diversi anni per aver scritto alcuni articoli di denuncia ostili al governo cinese. Lian ha partecipato alla premiazione dei vincitori della sezione poesia edita ma anche a quella dei detenuti premiati nel carcere Le Costarelle di Preturo, un carcere definito dal poeta una vera e propria scuola di poesia. Per me la poesia è sempre stata una sorta di esilio, sin da quando è iniziata, sin dai primi giorni di esistenza della poesia. Soprattutto se pensiamo a poeti come Ovidio, Dante, fino ai poeti moderni. I poeti quindi, se pensiamo alla realtà contemporanea, sono tutti esuli, soprattutto se pensiamo alla realtà del mondo globale. Quindi quando sono giunto in Italia per ricevere il premio Flaiano che ho già ricevuto e questa volta penso che sono qui a rappresentare la poesia che si riunisce a livello internazionale, non solo dal mio paese. Qui siamo in un carcere. Come si può comunicare a persone che in questo momento, comunicare la poesia a persone che sono state private della loro libertà? Questa è la mia prima volta in un carcere, ma sono davvero contento di essere qui, mi sento davvero elettrizzato. Perché nel mondo in cui ci troviamo c'è una realtà che è quasi come una prigione, ma addirittura se non una prigione più grande di quella in cui fisicamente ci troviamo adesso. Quindi parlare di poesia, leggere poesia dei carcerati è proprio la vera essenza della poesia, toccare l'essenza della poesia. Quindi spero che la poesia, che proprio rappresenta questa libertà, questo cambiamento, possa dargli un po' di supporto, dare un po' di supporto a queste persone. Un'ultima domanda, se è possibile, in un mondo in cui la parola viaggia tramite social, a volte viene stravolta, ridotta, piccole sillabe, e come si può, ecco, può essere la poesia ancora uno strumento di denuncia e di penetrazione nei sentimenti delle persone? Credo che il tradurre la poesia non sia soltanto una traduzione, sia piuttosto un incontro di culture. In un contesto così globale, questo incontro tra culture è cruciale, è importantissimo. La poesia rappresenta lo strato più profondo di ogni lingua, condividiamo tutto nella poesia, la comprensione di tutte le problematiche, al fin dei conti. Anna Maria Giancarli, fondatrice, insieme a altre due persone, ormai, tanti anni fa, nel 2002, del premio Bonanni, che cosa è significato il premio per questa città e per l'Italia? Per questa città ha significato moltissimo perché, in effetti, nel 2002 non era dotata di un premio nazionale che avesse la portata di questo premio, che ormai ha radici nazionali, e ha avuto nel tempo il riconoscimento delle case editrici, dei poeti, eccetera. E poi ha significato, in questo modo, portare luce sul nome di Laudomia Bonanni. L'intenzione è stata questa. Siccome hai parlato di altre due persone, le voglio citare. Nel 2002 andammo allo studio del notaio Trecco per fondare questo premio, intitolato Laudomia Bonanni. Io, Stefania Pezzopane, è il grande, nobile, la nobile persona di Antonio Battaglia. In questi anni il premio Bonanni ha avuto uno dei tanti pregi, è stato quello di portare alla diffusione della poesia anche in luoghi come un carcere, ad esempio, in cui difficilmente la poesia può entrare. Sicuramente, ci sono pochissime altre città che si rivolgono ai detenuti. Io devo dire che questo è un segno molto importante a livello umano, oltre che poetico, perché far parlare persone che appunto hanno perduto la libertà e che sentono impellente proprio l'esigenza di poter uscire fuori, è importantissimo. Ogni anno, infatti, arrivano i testi dei detenuti di tutta Italia. Devo dire che io li leggo sempre con molta difficoltà perché mi riempiono di tristezza, però nello stesso tempo penso che quel mezzo, quel modo che noi possiamo offrire, piccolo magari appunto, di uscire fuori delle sbarre sia molto importante. Qual è lo stato di salute della poesia oggi in Italia e nel mondo, visto che lei ha comunque una referenza a rapporti con poeti di tutto il mondo? Dunque, lo stato della poesia certo non può essere definito facilmente con una frase. Io sono solita ripetere che la poesia è un momento eccellente della mente umana che scava dentro le ragioni il senso della vita dell'umanità. Quindi lo stato di salute sarà non solo eterno, fin quando appunto ci sarà la possibilità che l'uomo rimanga su questa terra perché ci sono sintomi anche, diciamo, molto tragici rispetto al futuro di questo pianeta. Ma lo stato della poesia è comunque certamente uno stato non mediatico e anche di questo, per quanto mi riguarda, io sono molto, diciamo, orgogliosa perché se anche la poesia diventasse merce sarebbe la fine della poesia stessa. Invece la poesia in questo senso ha veramente lunga vita. In questi anni il Premio Bonanni ha fatto una scelta, quella di portare all'Aquila un poeta di rilievo internazionale, dei poeti, degli autori, degli scrittori di rilievo internazionale spesso impegnati anche civilmente. Perché questa scelta? Perché la poesia è praticamente un segno identitario non solo della persona, dell'umanità ma anche dei luoghi. E qui, per esempio, all'Aquila e nel carcere, in questo carcere dell'Aquila è stato presente, per dire tra i tanti nomi, Darwish, che era l'emblema del popolo palestinese. E noi ci siamo sempre rivolti anche a poeti di livello come, non so, Derek Wolcott, Adonis che hanno in qualche modo incarnato lo spirito del popolo a cui appartenevano e anche delle aree di crisi, perché abbiamo avuto poetiche venendo da situazioni anche molto difficili per esempio due anni fa Juman Haddad veniva da Libano, quindi situazioni conflittuali di guerra che noi cerchiamo comunque di, in qualche modo, travasare in questa nostra realtà di permeare questa situazione, questa nostra condizione sociale, politica, economica aquilana con contaminarla con altre culture, con altre presenze. Barbara Lenzini, lei è la direttrice di questo istituto circondariale con lei ci sono tanti detenuti che provano ad esprimere con la poesia un po' quello che pensano, quello che sentono. Sì, secondo me la poesia è un momento di riflessione, di interiorizzazione del proprio punto vissuto e in questo senso, diciamo, attraverso la poesia esprimono i propri sentimenti sul loro vissuto. Ci sono dei poeti, dei veri e propri poeti fra questi ragazzi che adesso si è fatto della loro preparazione, della loro capacità di esprimersi attraverso le poesie? Qualcuno sì, qualcuno riesce ad esprimere in maniera completa la propria esperienza e il più delle volte sono delle esperienze anche molto tristi, punto molto vissute, insomma. Che senso ha portare la poesia in un carcere? Può avere un significato di speranza? Può avere un significato di speranza per chi, diciamo così, pensa ad un futuro punto diverso, ad un futuro punto fuori dalle mura del carcere. Quante persone sono detenute qui? Attualmente siamo intorno ai 20 punto detenuti di media, punto sicurezza. Un incontro che guarda al presente per i giovani che oggi sono nella città e rappresentano il nostro futuro e guarda al futuro per fare in modo che le nuove generazioni capiscono il valore della cultura e sappiano leggere attraverso la cultura quelle che sono le evoluzioni sociali e i cambiamenti che sono in atto nelle dinamiche mondiali. Noi abbiamo sempre creduto nei giovani sin dall'inizio e li abbiamo coinvolti a pieno titolo e pieno merito nel premio. Loro sono giurati come gli altri e il loro contributo può anche ribaltare opinioni di personaggi più autorevoli. Quindi a loro affidato una grande responsabilità ma dobbiamo dire anche che hanno sempre dimostrato una grande professionalità e una grande sensibilità. Vorrei dire che questo però non accade solo con il premio L'Adomio a Bonanni ma accade all'interno delle varie manifestazioni che B per sponsorizza, B per la banca che sa leggere così è definita, ha oltre il premio L'Adomio a Bonanni anche fra le sponsorizzazioni il premio Strega, il premio Strega per i giovani, la fondazione Monzoni che favorisce l'incontro fra la letteratura e i giovani, un altro premio in Campania, adesso non ricordo il nome, ha anche sollecitato la fondazione di una casa editrice web a Modena per la pubblicazione di atti letterari dei detenuti, quindi un pochino sulla scia di quello che noi abbiamo inaugurato già da 17 anni. Quindi B per crede fermamente nel valore della cultura e del coinvolgimento dei giovani e noi siamo stati in questo antisignani e proseguiamo in questa scia. Ho visto davvero con molto entusiasmo questi ragazzi con la luce negli occhi ed è raro che si vedano insomma nei 16 anni, 17 anni questa voglia di partecipare, di esprimere le loro opinioni e la loro creatività ed è veramente una gioia credere e vedere che esiste ancora una gioventù e quindi quella che sarà poi la futura dirigenza che governerà il nostro Stato. Per me è davvero un piacere vedere questi ragazzi che hanno il desiderio e soprattutto la voglia di partecipare, di essere attivi. Ho cercato di stimolarli dicendo appunto non siate lobomotizzati dietro un computer, dietro un cellulare, non abbiate paura di esprimere le vostre opinioni e i vostri obiettivi, perseguiteli con impegno, veramente quasi ad imporvi insomma nella vita. Io tante volte lo dico per me stessa, la mattina mi sveglio, l'ho fatto anche un post l'altro giorno, come una guerriera perché so che ho degli obiettivi, so che ci saranno tanti ostacoli sulla mia strada ma se uno è determinato e come diceva qualcuno, se credi veramente in quello in cui vuoi arrivare, insomma devi perseguirlo, altrimenti o non avevi valore tuo o non avevi valore quello in cui credevi. Ed è questo che cerco di portare come testimonianza quando vado nelle scuole perché questi giovani vanno stimolati, vanno stimolati e soprattutto gli si deve far capire e gli si deve far credere che c'è la possibilità di esprimere la loro creatività, la loro opinione, il loro essere, il loro essere unici e non diciamo così omologarsi a una generazione che invece a volte purtroppo, è gli onori della cronaca, per dei drammi insomma di dipendenze da droghe, da alcolismo, insomma è da una gioventù molto più sbandata. I nostri giovani sani ci sono, forse se ne parla poco e quindi benvengano queste manifestazioni in cui vengono alla luce i valori migliori di questa società. Il valore è grande perché sono giovani che si avvicinano alla poesia con maggiore stupore di quanto lo possano fare i critici già abilitati. È vero che loro si trovano già di fronte a delle scelte fatte dalla giuria tecnica per cui i testi scelti sono già ottimi di per sé, ma il valore è proprio quello di avvicinare maggiormente lo studente alla poesia, ma non solo alla poesia come lettura, ma anche alla funzione della poesia in un premio. Quindi hanno una maggiore responsabilità, leggono con attenzione e con spirito critico ed è importante per noi perché la loro valutazione è una valutazione del cuore, è una valutazione anche che imprime al premio stesso un valore che non è soltanto legato ai critici, ma è legato alla cittadinanza, anzi è legato alla provincia perché i ragazzi vengono da tutte le scuole della provincia.